Amici, questa è l'ultima puntata di Esploratori del Web. Non sarà l'ultima, ne farò altre più avanti, però per adesso finisce qui, anche perché settimana prossima è previsto un super video che vi spiegherà tante cose, quindi mi raccomando non perdetevelo, martedì prossimo sarà pubblico. Ci tengo tanto, ne parlerò anche meglio su Instagram, poi ne parlerò anche nella community qui di YouTube eppure sul gruppo Telegram, per cui se ancora non seguite nessuna di queste cose, mi raccomando, vi lascio il link in descrizione. Ultima puntata di quella che possiamo chiamare questa primissima stagione, questa primissima parte di Esploratori, che potete trovare anche voi sul web. Sono veramente contento, scusate se vi faccio questa piccola premessa prima di iniziare l'episodio effettivo, ma vi devo ringraziare perché mi avete veramente un sacco stupito, vi è piaciuto tantissimo, siete stati super entusiasti, soprattutto sui primi episodi di Shea e SuperSus, che non conoscevate, quantomeno la maggior parte di voi, e sono veramente contento perché mi ha fatto capire che era una roba che ancora nessuno in Italia aveva fatto, una rubrica semplicissima, molto di nicchia, sono d'accordo. Però vi ha stupito, vi ha stupito e vi ha appassionato, e molti di voi sono andati a vedere questi episodi di altri esploratori, e mi avete scritto su Instagram veramente un sacco di messaggi di ringraziamenti per aver fatto scoprire anche questi altri esploratori. Quindi sono super contento, grazie davvero, e grazie a tutti quelli che mi scrivono su Instagram, ultimamente sto cercando di rispondere sempre. Spero che anche questi ultimi esploratori vi piaceranno, e non vedo l'ora veramente di preparare tutti i prossimi episodi, magari anche qualitativamente più belli, magari addirittura riuscire anche a mettermi in contatto con loro e intervistarli, sarebbe veramente una figata pazzesca. Lo spero davvero, e niente amici, godetevi questo ultimo episodio di Esploratori del Web. Allora, oggi vi porto alla scoperta di due esploratori davvero incredibili. Per chi di voi mi segue su Twitch, già li conosce, ha avuto modo di vedere un sacco di esplorazioni durante le dirette. A proposito, mi raccomando, stasera ci vediamo su Twitch alle ore 21. Quindi oggi voglio parlare con voi degli Explomo. Due ragazzi che con i loro video hanno veramente portato un vento di aria freschissima nell'urbex europeo. Hanno esplorato posti davvero incredibili, arrivando addirittura a trovare posti intatti non solo in tutta Europa, ma anche in Italia da noi, posti che nemmeno noi italiani avevamo mai visto. Anche loro, come il nostro ormai carissimo Pazzo Landese e Bastardo, e ripeto una citazione di Austin Power, grandissimo Bob, lo sai che ti voglio bene, anche loro hanno avuto dei problemi abbastanza pesanti con l'Italia. In questo caso non perché hanno scoperto un qualcosa di militare, un qualcosa che doveva rimanere segreto, ma sono andati a esplorare, sono riusciti ad entrare in una villa abbastanza conosciuta nell'urbex italiano. È una villa su cui tanti di noi hanno puntato gli occhi, interessantissima. Loro sono riusciti ad entrarci e dentro hanno trovato delle cose incredibili. Vi dico solamente che all'interno di questa casa c'era addirittura un velocipide, che per chi non sapesse cosa sia, è semplicemente una di quelle bici antiche che hanno la ruota più grande davanti e piccolissima dietro. Cioè, questa è una cosa che abbandonata, vi giuro, io me la sogno, cioè non vedo l'ora veramente di trovarla. Comunque, a parte questo, nel loro caso è un rarissimo episodio, tant'è che loro in realtà portano luoghi super tenuti bene, ma non vanno mai a esplorare qualcosa di controllato. Quindi vorrei partire raccontandomi un po' come ho scoperto questo gruppo di ragazzi, con cui tra l'altro sono in contatto. Ringrazio veramente un sacco Maureno, che è la persona con cui riesco a chattare di più tra i due, e veramente li ringrazio perché sono super disponibili, rispondono sempre, a ogni storia rispondono, quindi cioè, è anche un bel supporto a vicenda, è veramente figo. Quindi grazie ragazzi. Le prime loro scoperte che io ho avuto modo di vedere erano dei posti francesi, che come tutti noi esploratori europei sappiamo, la Francia ha i migliori luoghi abbandonati presenti in questo continente. Noi in Italia ci difendiamo veramente bene, ma la maestosità e la bellezza e ricchezza, soprattutto di certi posti francesi, sono veramente imbattibili. Pensate tra l'altro che il posto più bello del mondo da esplorare si trova proprio in Francia, una villa amici con qualcosa come 40 stanze, di cui 20 camere da letto, una più bella dell'altra, bellissima. Ad oggi è difficilissimo entrare e tenete conto che i primissimi che sono entrati purtroppo hanno anche rubato, proprio perché c'erano delle cose così storiche, ma tenete conto che al suo interno addirittura c'erano dei trofei di caccia di Luigi XIV. Favolosa, veramente incredibile, mi piacerebbe magari parlarne proprio in un video specifico, potrei fare una miniserie. Ora che ci penso tra l'altro sarebbe veramente bello fare una miniserie con i posti più belli del mondo, i posti abbandonati che veramente meritano un viaggio per essere esplorati. Se vi piace fatemelo sapere sotto nei commenti. Detto questo, gli Explomo partono proprio dalla Francia con le loro esplorazioni, esplorando in maniera particolare ville abbandonate. Diciamo che sono proprio le location più facili da trovare sul loro canale. Ovviamente non si sono fermati solo alle ville abbandonate, anche se è il loro luogo prediletto, ma tenete conto che potreste trovare anche l'esplorazione per dire di un aereo abbandonato. Veramente bello, peccato che in Italia non c'è niente che ci si avvicini al luogo del genere. Ben presto però amici, visto anche la vicinanza, si spostano pure nel nostro paese a esplorare. Il fatto di esplorare anche dei paesi vicini è una cosa super comune per noi esploratori, anche perché è bello poter dire non ho esplorato solo nel mio paese, ma ho esplorato anche all'estero. Anche qui su questo canale potete trovare delle esplorazioni fatte per dire in Francia o addirittura a Chernobyl. Peccato perché non ci sarà probabilmente per un sacco di tempo più l'opportunità di andarci. Tra l'altro hanno esplorato anche un sacco di luoghi veramente famosi qui in Italia come Villa dell'Artista, Villa del Dentista, il Grand Hotel de Milan, insomma sono stati veramente in un sacco di posti interessanti. Ma non si sono limitati soltanto all'Italia, ma sono andati anche in Belgio per dire, un altro paese bellissimo. Dovete infatti sapere che in Belgio come in tantissimi altri stati al nord dell'Europa hanno la fama di essere completamente intatti. Ora tra l'altro vi spiego anche il perché. Siamo tutti d'accordo che nei paesi del nord Europa la ricchezza è molto più proporzionata al costo della vita rispetto che da noi. Per cui sia culturalmente che economicamente non hanno assolutamente necessità di andare a rubare nei luoghi abbandonati, anzi, nemmeno di spaccare e di vandalizzare. Per cui vi posso dire che vi può capitare, amici, questo mi è stato detto anche da persone che hanno esplorato al nord dell'Europa, che se magari voi entrate in un luogo abbandonato e un vicino di casa vi vede, mentre qui in Italia magari chiama subito i carabinieri all'istante, perché ovviamente potrei essere un ladro, cioè è difficile pensare che c'è un fotografo che vuole semplicemente entrare a fare foto o uno che vuole entrare semplicemente a fare video. Nei paesi invece del nord Europa può succedere, come è successo ad altre persone che me l'hanno raccontato, che magari il vicino esce di casa, ti chiede semplicemente cosa stai facendo, perché per loro non esiste il concetto di entro a rubare, è rarissimo e i ladri tendenzialmente non vanno a rubare robe abbandonate, per cui vengono lì e ti chiedono che cosa stai facendo e quando scoprono che semplicemente vorresti entrare a fare un paio di foto quasi ti ci accompagnano, cioè ti spiegano il motivo dell'abbandono, chi ci viveva, perché è stato abbandonato, è una cosa allucinante, cioè se fosse così, pure qui in Italia, sarebbe la cosa più figa del mondo. E vi giuro che quando me l'hanno raccontato stentavo a crederci finché effettivamente questa cosa non l'ho saputa da più persone. Cioè è bellissimo pensare che lì non hanno quasi quel concetto, cioè il ladro, il furto, il vandalo, ed è proprio da questi due viaggi che iniziano a diventare davvero conosciuti, grazie ai luoghi che hanno esplorato in Belgio e in Italia. Tornano in Francia, tra un tour e l'altro iniziano a crescere veramente tanto, ad avere sempre più contatti che gli permettono di avere nuovi luoghi abbandonati sempre più incredibili. Ed è proprio qui amici che iniziano a portare dei luoghi che sono un qualcosa di assurdo. Il primo video infatti che ho visto da loro è stato proprio questo e non ci potevo credere. Questa enorme proprietà francese in cui erano rimaste un sacco di cose, una più bella dell'altra. Nel loro video poi mi ha sempre colpito anche l'emozione che riuscivano a far trasparire e anche le musiche che utilizzavano che sono le stesse che userei io con quelle riprese. Se proprio posso permettermi di fare una critica, secondo me l'unica cosa è il montaggio. A volte è troppo diluito, troppo allungato. Infatti i loro video durano veramente tantissimo. Sono stupendi, portano dei luoghi veramente incredibili. Forse qui in Italia siamo abituati a un montaggio molto più veloce, molto più snello, cioè senza troppi fronzoli. Tenete conto infatti che i loro video possono arrivare dai 20 minuti all'ora e mezza. Ci sono anche video di un'ora e mezza, esplorazioni che durano un'intera ora e mezza, un film. Sono scelte ovviamente ma vabbè, io li adoro comunque. Da lì hanno preso il via, hanno continuato a esplorare, portare posti sempre più belli e a migliorarsi ogni volta. Un'altra loro esplorazione che ricordo super bene per la sua unicità è stata quella all'interno del megastore abbandonato. Pensate amici che era rimasto davvero tutto nonostante fosse abbandonato. Provate ad indovinare dove erano a fare quell'esplorazione. Ovviamente in Belgio. Tenete conto che in Italia avevamo un esempio simile, un'azienda italiana che produceva calzature per la serie A ad oggi purtroppo fallita. quando siamo andati noi era tutto aperto e purtroppo avevano già rubato tutto. Un'altra esplorazione dei ragazzi che ho veramente amato è stata quella all'interno di Villa dei Samurai. L'abbiamo vista anche su Twitch. Immaginatevi una villa bellissima in mezzo al nulla con ancora dentro tutto e non solo. Infatti al suo interno è possibile trovare un'autentica e antica armatura da samurai. È una delle pochissime presenti nel panorama urbex europeo quantomeno. Ma la villa abbandonata più clamorosa che loro hanno esplorato ovviamente era ancora in Francia. La cosa più incredibile è stato sapere che questa villa è appartenuta a un ufficiale dell'esercito di Napoleone. Poi lui ovviamente l'ha tramandata ai successori fino ai nostri giorni. La cosa che però veramente mi ha stupito di quella casa era tutto ciò che c'era dentro amici. Era un tesoro unico quel posto. Quasi un museo pieno di cose importantissime piena di robe collezionate nel corso del tempo. quadri, ritratti, sculture opere d'arte arazzi oggetti importantissimi insomma era il luogo che ogni esploratore avrebbe voluto trovare e visitare almeno una volta nella vita. Questi amici sono gli Explom il nostro Maureno e Ramon due ragazzi giovanissimi bravissimi che anche per dire ieri hanno pubblicato un video di una villa appartenuta a una famiglia russa e andatemelo a vedere il video perché è una bomba pazzesca vi faccio passare qualche immagine qui in sovraimpressione è davvero spaziale fanno dei ritrovamenti che sono incredibili qui in Italia è veramente difficilissimo arrivare prima dei ladri è incredibile non so come fanno non me lo riesco nemmeno a spiegare riescono davvero ad arrivare prima dei ladri avranno sicuramente un'ottima rete di contatti in Europa ci si aiuta molto di più tra i vari stati tra Francia Germania Inghilterra qui in Italia purtroppo siamo tutti un po' più un po' più chiusi insomma ma perché arriviamo da un paese in cui l'occasione purtroppo fa l'uomo ladro mai in nessun altro posto nel mondo come qui in Italia è una frase fatta e finita e vera soprattutto per cui è veramente difficile che dei posti noi riusciamo a trovarli intatti anche per tanto tempo anzi è più corretto dire che è difficile che dei posti che diventano noti nel mondo dell'urbex non vengano presto vandalizzati ragazzi io spero veramente che questa miniserie vi sia piaciuta io mi sono divertito un sacco a farla sono veramente contento e anzi ringrazio tutti voi che mi avete sostenuto un sacco avete fatto veramente un sacco di views nonostante effettivamente sia un mostrarvi qualcos'altro e mi ha fatto veramente piacere perché mi fa capire che si volete urbex mi piace il mondo dell'urbex vi piace anche scoprire qualcos'altro mi piace magari se propongo altro infatti questo mi dà una forte spinta per tutto quello che vedrete nelle prossime settimane farò dei video veramente molto importanti per me perché saranno un vero e proprio cambiamento vi porterò un po' fuori dal mondo dell'urbex quindi so che molti di voi questa è una cosa che può non piacere forse non lo so scrivetemelo sotto nei commenti però è una cosa a cui tengo perché come vi ho detto sia in live sia in altre occasioni non mi sento solo un esploratore mi sento altro mi sento un videomaker mi piace un sacco fare video e mi piace farlo in tante forme non solo nell'urbex di lavoro lo faccio già per mille altre cose per cui vedrete secondo me vi piacerà sono video molto diversi sono molto più studiati almeno questa serie di penso tre o quattro video che vi porterò nel corso delle prossime settimane ma spero veramente che vi piaceranno sono belle tecnicamente non lo metto in dubbio hanno anche un bellissimo messaggio che è ciò che penso io ed è ciò che sto maturando io in questi ultimi tempi perché per me personalmente è stato un periodo di grandi cambiamenti non solo nel canale negli ultimi mesi ma anche nella mia vita e non vedo veramente l'ora di raccontarvelo vi farò entrare molto di più nella mia storia e in tutto quello che succede anzi spero che potrà essere di ispirazione per tanti di voi che ambiscono a migliorare e a fare altro e a tentare magari di seguire quello che è ad oggi un sogno che anche per me ad oggi è un sogno ancora quello che sto cercando di realizzare se ci riuscirò però sarà filmato la cosa mi piacerà tantissimo ovviamente l'urbex non mancherà ogni venerdì ci sarà sento però bisogno di portare altro ho bisogno proprio di freschezza e niente ragazzi spero veramente che il video vi sia piaciuto grazie mille se l'avete visto fino a qua lasciate un bel commento un bel like ma soprattutto iscrivetevi noi ci vediamo venerdì con una nuova esplorazione e niente ragazzi come al solito vi saluto con il gesto del mare amici il mare grazie ancora per tutto